Ecco, arriviamo a questa terza lezione che conclude questo primo cammino e ci concentreremo in modo particolare sulla composizione, i personaggi, la struttura e il contenuto di questo dialogo. Ricordiamo che nel novembre del 1849, mentre Rosmini sta ultimando la psicologia, Manzoni comincia a progettare il dialogo dell'invenzione, contemporaneamente alla sistemazione del saggio del romanzo storico, con il quale è facile trovare alcuni richiami e non pochi parallelismi, e di questo ne avevamo già accennato. Se dovessimo congetturare circa il periodo di composizione del dialogo, potremmo supporre la stesura fra la primavera e l'estate del 1850. Questa supposizione è confortata dal fatto che Rosmini, in una lettera datata 3 luglio 1850, ed inviata al Pestalozza per invitarlo a stresa, scrive «Discorreremo molte cose di filosofia, ora che anche Don Alessandro ci si è messo», e ne ha scritto un bellissimo dialogo che uscirà nel prossimo fascicolo delle sue opere varie. L'opera manzoniana in questione, scritta in massima parte alesa, viene quindi pubblicata verso la metà di settembre del 1850, presso la tipografia Giuseppe Redaelli di Milano, così come aveva già segnalato Rosmini in questa lettera, all'interno delle opere varie del Manzoni con il titolo appunto dell'Invenzione. L'opera viene accolta molto bene, basti pensare alle parole del suo primo recensore, Michele Parma, il quale non esita a definire il dialogo come il migliore di quanti n'ha all'Italia suo argomento di filosofia. Rosmini non sbagliava quando vedeva nel Manzoni un uomo dotato di un'intelligenza adatta al pensiero filosofico e la pubblicazione del dialogo, che rappresenta l'avverarsi dell'impressione del filosofo oroveretano, crea in lui quel sentimento di gioia unito ad una profonda stima, tanto più per il fatto che Manzoni mostra di aver ben compreso la sua filosofia. Una volta sciolti i dubbi e le difficoltà circa il problema dell'origine dell'idea dell'essere, Manzoni si trova su un terreno tranquillo. L'opera, che mostra un'esplicita fedeltà al pensiero rosminiano, è anche il segno più lampante dell'amicizia di Manzoni nei confronti dell'amico filosofo, del quale non teme di dichiararsi suo discepolo, in un momento nel quale, come si sa, Rosmini sta attraversando la bufera degli attacchi concentrati contro il suo pensiero. Manzoni gli è vicino proprio mentre delle cinque piaghe della Santa Chiesa e la Costituzione secondo la giustizia sociale vengono messe all'indice. Su questo aspetto di vicinanza di Manzoni all'amico Rosmini scrive Giuseppe Bozzetti, che è un rosminiano ed è stato anche il curatore di un'edizione del Dialogo dell'Invenzione. Ma con questo bellissimo dialogo, il Manzoni oltre che una solenne professione di quelle dottrine filosofiche che furono sempre più le sue sino alla morte, certamente volle fare un delicato atto di amicizia. Non c'era momento più opportuno perché Alessandro Manzoni dichiarasse al mondo civile le sue persuasioni filosofiche, la stima che egli faceva delle dottrine rosminiane. Senza chiasso, senza vanteria presuntuosa, senza darsi aria, con la sua schietta signorile semplicità, l'autore della Pentecoste del 5 maggio compensava per qualche era in lui alla luce del sole i danni che l'invidia preparava nell'ombra alla fama di Antonio Rosmini. Abbiamo già detto più volte che l'opera in questione è un dialogo che, come dice giustamente Bozzetti, ha in sé ad un tempo una duplice arte, quella socratica da un lato e quella manzoniana dall'altro. Il dialogo infatti appartiene ad un genere letterario che ha avuto il suo massimo esponente in Platone, ma che ha suscitato l'interesse di molti autori proprio per la tipologia della forma che permette una trattazione viva dei contenuti, forse ancora di più che una prosa da trattato. Accanto al Manzoni, quindi, basti ricordare Machiavelli, Galilei, Tasso o Leopardi, per citarne alcuni, i quali hanno sempre dato moltissimo valore, come ben mostra Platone, al perfetto equilibrio di forma e contenuto che la composizione dialogica richiede per poter essere efficace. A tal punto, tra l'altro, da far divenire il lettore parte integrante del dialogo stesso, quasi un personaggio a sé che riveste un ruolo fondamentale. Beh, se ci soffermiamo su questo dialogo manzoniano, dobbiamo tener conto che qui i personaggi in gioco sono tre, anche se due effettivamente svolgono il ruolo principale ed uno, in modo particolare, è quello che alla fine porta la risoluzione del tema. Il primo è un anziano narratore che è quasi sempre in silenzio ed interviene all'inizio per introdurre il luogo in cui sta avvenendo la disputa. Poi vi è un giovane che viene chiamato primo, che è il padrone della casa in cui si svolge il dialogo e rappresenta la posizione filosofica di Manzoni. E poi vi è un ospite, un altro giovane, che viene chiamato secondo, che è un amico dei primi due personaggi ed è coetaneo di primo, che svolge la funzione di provocatore. Il dialogo è strutturato in tre parti, ognuna delle quali rappresenta uno sviluppo logico e conseguente dei risultati maturati nel corso della disputa. Prendiamo sin d'ora in considerazione la struttura stessa dell'opera, così che la successiva lettura diretta di alcune parti, tema appunto della quarta, quinta e sesta lezione, possa risultarci più agile. La parte prima muove dalla seguente questione. Se l'invenzione artistica produca o ritrovi? Si conclude col mettere in chiaro la natura dell'idea o modo di essere delle cose ideali in contrapposto al modo reale, ossia la distinzione fondamentale dei due modi dell'essere, ideale e reale. Cerchiamo di capire bene. Il problema della disputa è quello di stabilire che cosa effettivamente fa l'artista quando segue l'ispirazione. Questo problema, che sembrerebbe solamente di carattere estetico, rimanda invece alla ricerca di un fondamento ontologico cui bisogna riferirsi. Quando l'artista, ad esempio, dipinge un fiore, egli non crea l'idea del fiore che sta realizzando, ma la inventa. Benissimo. Resta da stabilire cosa si deve intendere con il termine inventare. La disputa sorge nel momento in cui primo sostiene che la parola invenzione debba essere intesa alla latina, cioè invenire, che significa trovare qualcosa che già c'è. Mentre secondo sostiene che invenzione significhi costruzione dal nuovo, ex novo, ovvero costruzione frutto dell'immaginazione e della fantasia dell'artista. Il problema è dunque quello di motivare tale posizione, ma secondo non riesce a proporre con adeguata chiarezza la spiegazione alla sua tesi. Ha quindi inizio l'esposizione di primo, il quale argomenta mostrando come l'inventare e il trovare si identifichino. Il ragionamento porta primo a dimostrare come sia necessario distinguere fra probabilità e possibilità, poiché è possibile constatare che una cosa possa essere improbabile ma possibile, e mostra al tesi la differenza fra la forma reale e la forma ideale delle cose, giungendo alle seguenti conclusioni. Prima, che da una sola idea è possibile ricavare più reali. Seconda, che l'unità costituisce la nota distintiva dell'idea, mentre la moltiplicità costituisce la nota distintiva dei reali. La conclusione del ragionamento porta primo a sostenere che l'idea, che ha la nota distintiva dell'unità, possiede delle caratteristiche sue proprie, cioè è ad un tempo una indistruttibile, incorruttibile e immutabile. Secondo non è però d'accordo con primo sul fatto che l'idea debba essere immutabile, ossia che l'idea possieda il carattere di immutabilità. Secondo si convince, del contrario solo dopo che primo riesce a fargli ammettere, quasi in un modo inconsapevole, che è possibile passare da un'idea ad un'altra ma non modificare la stessa idea. Secondo ritiene allora che l'artista in verità né crea né trova, ma componga a partire dall'esperienza della natura e la imiti. Primo, sottolinea come questa conclusione volga a contraddizione perché ciò che è componibile è la realtà, non l'idea. Per tal motivo tutti gli atti soggettivi e reali che l'artista compie non sono né produttori né creatori delle idee, ma mezzi atti a rendere presenti alla mente umana un'idea che già era, cioè un ritrovamento e, come primo aveva inizialmente affermato, un invenire. Secondo pone dunque la seguente questione. Se l'idea presiste all'artista che la trova, dov'era prima che questi la trovasse? Tale questione apre il problema dell'origine delle idee, proprio quel problema che aveva tagliato Manzoni, come abbiamo visto prima. Per cui diventa essenziale stabilire, prima ad ogni ulteriore sviluppo teoretico, che esse, cioè le idee, sono nella mente dell'uomo e posseggono un modo d'essere completamente differente dal reale, per cui è necessario distinguere due modi nei quali si presenta l'essere e ogni ente. Il primo, modo ideale, che è il modo di essere delle idee e ce ne garantisce l'esistenza. Il secondo, il modo reale, che garantisce l'esistenza del mondo delle cose. Attraverso tali chiarimenti è possibile avanzare una soluzione alla questione proposta da secondo. L'idea è sempre nella mente dell'uomo quando la trova, mentre nella mente di Dio da sempre. Secondo, si accorge della validità di tali affermazioni, ma reputa doveroso intraprendere approfondimenti adeguati, anche perché tali soluzioni aprono ulteriori altre questioni. Primo, non procede oltre. Consiglia invece a secondo di leggere i libri di Rosmini, poiché in essi vi troverà le risposte anche alle ulteriori questioni. Attenzione, leggere i libri di Rosmini, a questo punto, potremmo pensare all'argomento di riferirci semplicemente al nuovo saggio. Ma attenzione, si dice di trovare le risposte anche alle ulteriori questioni. E Manzoni ci dà il riferimento a due opere in modo particolare. Il rinnovamento della filosofia in Italia e la logica, opera che è amatissima da Manzoni e opera fondamentale di Rosmini che necessita certamente un approfondimento. La parte seconda del dialogo rappresenta un vero e proprio elogio della filosofia rosminiana, la quale merita di essere studiata per diversi motivi. Primo, mostra come la filosofia di Rosmini insegna allo stesso tempo ad esaminare con attenzione tutti i sistemi filosofici attraverso un metodo che permette di criticare anche il proprio. Lo abbiamo visto prima, è il metodo di Rosmini, fare una storia del problema senza essere mossi da pregiudizio alcuno, per poi avanzare una propria teoria e confrontarla con le altre e con la realtà delle cose. È sempre la verità che sta a cuore, non la novità. Ma procediamo oltre. È chiaro che a secondo non viene fatto mistero da parte di primo che questa filosofia, cioè quella rosminiana, stenta a farsi strada perché non tanto perché sia difficile, potremmo dire che è complessa perché è un sistema, ma perché è molto esigente e quindi richiede una particolare disposizione d'animo ed è molto lontana da chi non ama cimentarsi in cose troppo impegnative, come accade a moltissimi. La filosofia rosminiana infatti domanda al suo cultore almeno tre cose. La prima, di avere un intelletto libero da ogni pregiudizio. La seconda, di non essere precipitoso nelle conclusioni, ma di ponderare ciascun passaggio argomentativo, ivi compresi i ponti che connettono, diciamo così, una parte dell'indagine alla seguente. E terzo, di essere coerente con le verità guadagnate. La filosofia di Rosmini offre un sistema solido che, confrontato con il sensismo e l'idealismo, mostra una fondatezza e una validità tali da salvaguardare ad un tempo le possibilità e la libertà della ragione umana ed il riconoscimento della tradizione cristiana e della rivelazione. Secondo, fa osservare però che l'opinione che si sta diffondendo sulla filosofia di Rosmini è quella secondo la quale tale pensiero annullerebbe la ragione per dar voce solamente alla fede. Beh, niente di più falso. Primo mostra come tale accusa sia frutto di un pregiudizio infondato, quindi di quel sistema di pensiero che Rosmini già da subito chiede di non possedere, appunto quello del pregiudizio, per poter avere una visione limpida delle cose. E infatti Rosmini ammette l'esistenza di due lumi, quello dell'intelletto e quello della grazia. Il lume intellettivo porta ragionevolmente l'uomo ad osservare il secondo, quello della grazia appunto, il quale, pur essendo superiore a quello intellettivo, non lo contrasta, sicché è facile osservare che da un unico principio sgorgano la fede e la ragione, e ciò che si ha in mente è la verità. La parte terza del dialogo conclude alla necessità di una retta filosofia, perché ogni uomo agisce in base a ciò che pensa, sicché gli effetti pratici sono conseguenti ad un pensiero che li determina. L'esempio portato da primo è quello di Robespierre, un esempio tratto dalla storia, da una storia recente anche. Un uomo che può apparire certamente crudele, ma che si è mosso seguendo le direttive di un pensiero che poggiava su persuasioni fermissime, ma soprattutto lontane da interessi personali. Egli ha mostrato di seguire la teoria di Rousseau, secondo la quale l'uomo nasce buono e diviene cattivo a causa delle istituzioni. E ha cercato anche con la forza di realizzare su questa terra il desiderio utopico della perfezione e della felicità eterne che appartengono, però, all'altro mondo e non a questo. Una serie di spunti esemplificativi sono tratti poi dalle affermazioni di Mirabeau e di Virgneau, per poi puntare l'attenzione sui concetti di utilità e giustizia e verificarne l'accordo. Primo, osserva che il senso comune degli uomini è concorda nel ritenere che l'utilità e la giustizia siano, seppur distinte, delle verità connesse reciprocamente e legate correttamente solo quando l'utilità è subordinata alla giustizia. Nel piano superiore della provvidenza, che per vastità ed intensità supera di gran lunga la vista umana, la giustizia diviene utile a chi la vive. Non è dunque fuori luogo riferire del caso di Bruto, il quale, vicino alla morte, definisce la virtù un semplice nome vano, proprio perché era in corso nell'errore di sostituzione della giustizia eterna con la sua personale e particolare giustizia. Primo, osserva che le azioni umane devono essere governate dal pensiero, cioè da una filosofia, ma non tutte le filosofie hanno il valore di quella rosminiana, secondo il quale è appunto la filosofia e scienza delle ragioni ultime. È facile, invece, constatare come gli uomini siano soliti fermarsi su ragioni secondarie, deridendo quasi le ultime, perché considerate forse troppo distanti dagli accadimenti quotidiani e quindi relegabili alle cose di poco valore. La vera filosofia, se vuole essere tale, deve essere metafisica. Quella metafisica di fatto che anche l'amico Cabanì di un tempo, l'amico di Manzoni, aveva scansato per far posto a una scienza che poi non era ben riuscito a considerare. Ma la metafisica diventa il cuore, il punto fermo, perché costituisce il primo fondamento per mezzo del quale le ragioni e le azioni umane divengono consistenti e rette. Primo si pone infine un ultimo quesito, perché dal fiore dell'artista si approdati alla giustizia? E questo è il termine di conclusione logico, di apertura e di chiusura, che appunto riassume in sé tutta la portata del dialogo. Qui la risposta diviene emblematica e risolutiva. Infatti, Primo rileva che sia il fiore che la giustizia sono idee, cioè oggetti della mente, il cui valore è ad un tempo eterno, universale e necessario. Inoltre va osservato che il punto comune che questi due oggetti posseggono, sebbene così distanti l'uno dall'altro, riesce a dimostrare come la filosofia di Rosmini sia espressione di un sistema fondato oggettivamente che può ben chiamarsi sistema della verità. E il dialogo si conclude col comune proposito di Primo e Secondo di studiare la filosofia di Rosmini. Augurio che io mi sento di rivolgere certamente a me stesso, ma anche a tutti voi che avete avuto la pazienza e la passione, spero di seguirmi.